Assessore Leonte, lo spirito di questo bilancio che avete approvato in giunta qual è? Allora, intanto mi permetta di ringraziare in premessa tutti coloro che hanno collaborato alla predisposizione del documento finanziario, in particolare l'ufficio di ragioneria con il dottore Carlino, il geometra Sutera e la dottoressa Bono. Lo spirito del bilancio. Un'altra premessa è quella, se mi permette, è quella che la predisposizione del bilancio arriva in ritardo rispetto alla data ultima che era fissata al 15 marzo, però ampiamente in anticipo rispetto alla media dei tempi di approvazione dell'ultimo decennio. Questo, ripeto, grazie alla collaborazione di uffici e dell'ufficio ragioneria in particolare. Lo spirito del bilancio è un bilancio, come si dice in genere, blindato, blindato da spese obbligatorie che non consentono ai sindaci e all'amministrazione di realizzare quelli che possono essere i sogni di ogni sindaco, di realizzare opere importanti, però dobbiamo dire che il Comune di Sciacca ha dei conti in ordine. Questo ci consente di non dover fare ricorso all'antecipazione di cassa, ci consente di coprire senza problemi i debiti fuori bilancio, di coprire le spese obbligatorie. E ciò nonostante, riusciremo senz'altro tramite il bilancio a dare risposte concrete ai nostri concittadini. Quest'anno, grazie ad una entrata straordinaria, possiamo definirla, della relativa ad onere di urbanizzazione, potremo fare qualcosa di importante per la nostra città. Abbiamo già incassato 1 milione e 300 mila Euro per una pratica edile, queste somme andranno sul territorio e ci consentiranno di dare una visibilità a quella che è l'attività del Comune. E la pratica edile riguardante investimenti commerciali? Sì, così a modi esempio non esaustivo, per esempio avremo la possibilità di utilizzare 500 mila Euro per le strade urbane e le strade rurali, oltre ai 500 mila Euro del mutuo che avevamo accesso l'anno precedente. Quindi a breve avremo la possibilità di utilizzare per le strade comunali circa 1 milione di Euro. Avremo la possibilità di sistemare la scalinata di via Orti San Salvatore. Abbiamo inserito delle somme in tal senso, così come la scalinata di via Pietercadute per intenderci che è quella sotto il campanile di San Michele. Ci sono anche lì inserite somme per la pubblica illuminazione, pensiamo di intervenire in Contrada Carbone, in località Stazzone. Ci sono somme per interventi che riguardano la Contrada Foggia, ci sono anche altre cose, ci sono degli interventi che avranno un ritorno immediato e visibile sul territorio. A questo aggiungiamo che approvato il bilancio ci troveremo a realizzare due opere che a mio modo di vedere sono molto importanti. Noi ancora avevamo assunto l'anno scorso il mutuo per la sistemazione dello stadio alternativo, Giuffré, e non appena sarà approvato il bilancio partiranno i lavori. Ciò consentirà la sistemazione complessiva e più il manto sintetico, l'erba sintetica che ci conserterà di avere una struttura all'avanguardia dove i nostri giovani possono tranquillamente crescere e giocare. Abbiamo assunto un mutuo di 1.800.000 Euro per i capannoni, questo è un aspetto importante, se ne parla sempre, ma ora finalmente credo che siamo arrivati al momento giusto per poter dare risposte in questo senso ai carristi e per poter fare crescere il carnevale. Sottolineo che entrambi questi due investimenti sono sostanzialmente condivisi con la maggioranza consigliare, perché se ne è parlato e perché sono stati votati, il mutuo per il Gurrera è stato votato anche dalla maggioranza numerica e mi auguro che la stessa cosa possa avvenire per il mutuo riguardante i capannoni. Quindi è una scelta non solo dell'amministrazione, ma è una scelta condivisa. Poi ci sono tante altre possibilità che ovviamente possono essere ricondotte soltanto, possono essere esplicitate soltanto all'approvazione del bilancio. L'amministrazione si aspetta una trattativa con la maggioranza consigliare, come ha detto lei, oppure lei quando dice bilancio blindato lancia già un messaggio? No, io nel bilancio blindato intendo dire che noi abbiamo 46 milioni circa di spese correnti, buona parte di queste spese correnti, la stragrande maggioranza di queste spese correnti sono vincolate da spese obbligatorie. Per in questo senso intendo blindato, non blindato politicamente. Rispetto ad eventuali trattative, accordi eccetera, devo dire che al momento non c'è nulla, nel senso che noi, ad onore del vero, una mezza proposta l'abbiamo lanciata alla maggioranza numerica, ma non è stata accolta. A proposito di poter intervenire anticipatamente piuttosto che dopo l'approvazione del bilancio in giunta. Quindi tutto è rimandato al Consiglio? Tutto è rimandato al Consiglio, mi auguro sempre che prevalga il buonsenso, perché la mancata approvazione del bilancio in tempi tutto sommato brevi, io mi auguro che in un mese si possa arrivare ad approvare il bilancio. Non consentirebbe, per dire le due cose più semplici, per esempio l'utilizzo di somme per la sagra del mare, per San Pietro per intenderci. Se noi dovessimo approvarlo oltre il 30 giugno non potremmo intervenire. Così come penso un'altra cosa che è importante, non potrebbe iniziare l'attività di salvataggio spiagge che tutti riteniamo essere importante, ma se il bilancio viene approvato oltre il primo di luglio partirà in molto ritardo. Ma questo per fare due esempi semplici. E cosa prevedono i tempi adesso? Il primo collegio dei revisori è già stato inviato al collegio dei revisori con tutti gli allegati. Che hanno un mese di tempo? No, ma vabbè, al di là del mese di tempo, non hanno mai preso un mese di tempo. Non c'è bisogno di coprire tutto il periodo? No, assolutamente. Io penso che in una decina, quindicina di giorni massimo il parere dovrebbe essere espresso. Dopodiché la Commissione ha più tempo, obiettivamente c'è il mese di tempo, però mi auguro che possa svolgere la propria attività in tempi più brevi. Io da sempre sono stato componente della Commissione bilancio. Posso dire che se si vuole i tempi possono ridursi facilmente. Senta, si ricorda quanto prevede di incassare il Comune dall'imposta di soggiorno? Allora, dall'imposta di soggiorno si prevede di incassare 940 mila Euro. Ovviamente sarà distribuita per cose che riguardano il turismo in genere. Ricordo che di questi 940 mila Euro, 160 mila Euro saranno destinati a pagare la rata di mutuo dei capannoni. Perché si ricorderà che siccome sono stati ridotti alcuni trasferimenti, non potevamo pagare la rata di mutuo con la normale... Sento, posso chiederle, considerato che scelte politiche se ne possono fare poche, ma è possibile dire che la scelta politica più interessante sia proprio questo del mutuo sui capannoni? Sicuramente è una scelta epocale, perché se ne parla da troppi anni e non si è mai riusciti ad avere le somme a disposizione per poterlo fare. Io ricordo nel 2001, sembrava quasi fatta quando il sindaco Cucchiara, poi un problema, la scuola di Sant'Agostino ci ha costretti a trasferire le somme che avevamo destinate alla scuola piuttosto che ai capannoni del carnevale. Quindi parliamo di 23 anni fa, in questo periodo se ne è sempre parlato, si sono sempre fatte promesse, ma adesso penso che ci sono le condizioni per poter andare avanti in questo senso. Un'ultima cosa, è arrivata la diffida con un preavviso di commissariamento sul conto consuntivo, quando arriverà questo conto consuntivo? La data ultima era il 30 di aprile per l'approvazione, ora è arrivata una diffida il 20 di maggio, dovremmo approvarlo entro il 20 di giugno. Rispetto al conto consuntivo in realtà noi ci siamo dedicati con gli uffici e l'amministrazione si è dedicata al bilancio, ci mancano dei dati di un paio di dirigenti. Una volta oggi stesso è prevista una riunione con i dirigenti perché forniscano questi dati, noi faremo l'impossibile per arrivare entro quella data ad avere il consuntivo pronto. Ma se non dovessimo farcela, il commissariamento è di norma, quasi sempre c'è stato il commissariamento perché il conto consuntivo regolarmente viene approvato, anche questo negli ultimi anni viene approvato ad agosto. La legge è cambiata, uno degli ultimi conti consuntivi è stato sanguinoso perché fu sciolto il Consiglio Comune. Esatto, ma la legge è cambiata, non era corretto obiettivamente per vedere lo scioglimento, cosa diversa per il bilancio che è rimasto lo scioglimento. Ultimissima cosa, Assessore, 46 milioni di spese ma a livello di entrate, soprattutto quelle tributarie ed extratributarie, il Comune si può dire che a sciacca paghino tutti? Allora, intanto questa domanda mi permette di dire che non abbiamo aumentato né i tributi né le tariffe che sono rimaste quelle del 2023 e questo è un fatto non di poco conto. Per quanto attiene alle entrate, noi abbiamo ripreso le entrate del consuntivo 2023, quindi sostanzialmente sono le stesse degli anni del 2023. Non tutti pagano, certo, se tutti pagassero avremmo possibilità di interventi maggiori, potremmo dare servizi. Questo problema si può risolvere soltanto dando a terzi la possibilità di fare gli accertamenti e di incassare, perché diversamente le condizioni delle risorse umane dell'ufficio tributi non ci consentono di, nonostante l'enorme lavoro che svolgono, cui va dato ampio riconoscimento all'ufficio in questo senso, non ci consentono di fare quel salto di qualità necessario perché tutti paghino, cosa che invece è necessaria perché i trasferimenti continuano a ridursi e quindi in qualche maniera l'unico sistema per poter continuare a dare servizi è quello di incassare i tributi locali. Ma sull'Atari è ancora il 40%? Ma guardi, io non le so dire una percentuale precisa. Le dico che l'ufficio si sta adoperando in maniera forte per recuperare il recuperabile perché confrontando i dati qualche cosa si è fatto. La percentuale non lo so, però c'è sicuramente questo atteggiamento da parte di parecchi che non vogliono, non possono pagare l'Atari e sono i primi possibilmente a lamentarsi come si è potuto anche verificare. Ecco, non trascurando il fatto che i trasferimenti da Stato e Regione sono stati falcidiati nel corso degli ultimi anni, come entrate tributarie ed extratributarie e quanto incassa il Comune? Allora, il dato preciso non lo ricordo, però è un dato che ci consente di raggiungere quegli obiettivi di pareggio del bilancio, quindi è un bilancio in equilibrio, è un bilancio che sono delle entrate che ci permettono anche di garantire quei servizi di cui abbiamo parlato. Noi continueremo sulla strada, su questa strada, ma ripeto, la strada maestra dovrebbe essere quella di dare a terzi l'accertamento e la riscossione. Grazie a tutti.